E' vero o non è vero che da oggi anche le obbligazioni, quelle normali, non solo le subordinate, in caso di incidenti, chiamiamolo così, tipo Etruria, possono essere persi? La banca... E' vero o non è vero? Esattamente, io ci sono stata pochissimi... Scusi Borghi, questa è un'informazione che interessa molto credo ai telespettatori, perché io avevo capito, o perlomeno forse sono rimasta al vecchio ordinamento, però fino a 100.000 euro erano garantiti, lo sono ancora o non lo sono più? Ma lui sta parlando di... No, certo che non sono garantiti, perché ti dicono che sono garantiti. Non lo sono più, lei dice. Ma no, ma guardi... No, perché sennò diciamo un po' delle cose... No, è molto banale, 100.000 euro sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è un fondo fatto dalle banche stesse, se appena fallisce una banca grande, questo fondo non esiste, in questo momento la copertura è pari allo 0,4% dei depositi.